Gli israeliani di Celebrity, società conosciuta per aver sviluppato vari strumenti e metodologie per sbloccare iPhone e altri dispositivi mobili senza l'autorizzazione dei proprietari, vedere Celebrity sostiene di poter sbloccare qualunque smartphone. Il suo software in uso negli Stati Uniti, affermano di aver scovato un modo per aggredire il meccanismo di cifratura dei dati utilizzato da Signal. L'applicazione, che in passato avrebbe ricevuto una sorta di endorsement da parte delle istituzioni europee Signal, l'app di messaggistica che avrebbe consigliato anche la Commissione europea, utilizza un algoritmo critografico per la protezione end-to-end dei dati degli utenti che l'ideatore Matthew Rosenfeld, alias Moxie Marlin Spicke, ha concesso anche a WhatsApp, ne parlavamo nel 2016, vedere. Critografia end-to-end su WhatsApp, come funziona al paragrafo per la critografia end-to-end WhatsApp usa il Signal Protocol. In un post pubblicato sul blog di Celebrity, l'azienda sostiene che la decodifica dei messaggi e degli allegati inviati attraverso Signal era ritenuta cosa impossibile, almeno fino ad oggi e spiega le tattiche usate per scardinare il meccanismo di cifratura su un dispositivo Android. I tecnici di Celebrity spiegano di essere riusciti a recuperare la chiave di decodifica leggendo un file contenente e alcuni dati sulle preferenze di utilizzo di Signal. Una volta acquisita la chiave è stata effettuata un'analisi del codice sorgente di Signal alla ricerca dell'algoritmo utilizzato per la decodifica del contenuto del database. A questo punto è stato rilevato l'utilizzo di un ulteriore livello di cifratura che è stato superato ricostruendo a ritroso le modalità con le quali i dati vengono cifrati.